Ciao ragazzi, oggi un altro video, volevo consigliarvi un allenamento molto semplice ma molto efficace per i tricipiti. Cominceremo con un esercizio baselare per il capolungo del tricipite. Dovete sapere che, se non siete informati, il tricipite costituisce bene i due terzi del braccio, quindi per avere delle braccia grosse è più importante dedicarsi alla zona posteriore del braccio, quindi al tricipite. Oggi abbiamo due principesse, che ve le facciamo vedere subito. Abbiamo Alessia e la bellissima Simba. Simba l'abbiamo presa in un canile proprio tre giorni fa, ci è piaciuta tantissimo e abbiamo deciso di tenerla per sempre con noi. E ci assisterà durante tutto l'allenamento. Poi andare a preparare i grangieri. Allora, il primo esercizio, parlavo del French Press, dobbiamo cercare di caricare un po' di più, perché è l'esercizio che in assoluto stimola la massa dei tricipiti e quindi secondo me è il più importante in assoluto. Basta tenere i gomiti stretti e adesso vi facciamo vedere l'esecuzione precisa dell'esercizio. Ciao! 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 Con questo esercizio siamo riusciti a stimolare più la parte esterna e centrale del tricipite dopo aver toccato giustamente la parte interna del capolungo. Adesso andiamo di nuovo sul capolungo, sulla parte molto alta, con le distensioni con manubrio da seduto in cui faremo tre serie da dodici ripetizioni. Adesso vi facciamo vedere l'esecuzione dell'esercizio. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Così finisce l'allenamento dei peri tricipiti di oggi, assolutamente basilare, quindi French press 3 serie da 8, tricipiti estensioni all'ercolina 3 serie da 10 e estensioni manubrio dietro la testa da seduto, 3 serie da 12 ripetizioni. Non lascio la cagnolina perché se no piange sempre, mi vuole sempre vicino, vero? Allora, vi faccio vedere il piccolo risultato. Adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!